salve amici oggi abbiamo un altro alimentatore per strisce led in un precedente video ho mostrato la riparazione di questo della meanwhile e vi ho fatto notare che i due schemi circuitali elettrici sono identici pertanto per maggiori informazioni guardate l'altro video quello in cui riparo questo della meanwhile mettiamolo da parte ed esaminiamo oggi questo che è marchiato play led esistono due modi per iniziare una riparazione o effettuare direttamente misure con tensione quindi alimentando il circuito e andando a misurare le varie tensioni in alcuni punti specifici oppure io di solito preferisco fare così una misura generale dei componenti di tutti quelli che trovo questo circuito ha alcuni componenti anche sul lato piste in formato smd io preferisco iniziare da misure fuori tensione perché sono più sicure e magari si può trovare il componente guasto senza andare a rischiare fornendo alimentazione che può far peggiorare eventualmente il danno già presente sul lato componenti abbiamo ben pochi componenti da misurare sostanzialmente questa resistenza che è la resistenza rsense del mosfet principale che abbiamo qui e questo diodo con quest'altra resistenza questi due componenti fanno parte del circuito di snubber qui sotto abbiamo un'altra resistenza che guardate sempre il precedente video fa parte del circuito di alimentazione del pvm questo è da 3,3 kilo ohm con il multimetro in modalità di misura resistenze abbiamo 3,28 va bene questa invece è una resistenza di basso valore è all'incirca 0,33 ohm va bene considerando che c'è la resistenza di puntali questa è una resistenza da 15 ohm marrone verde nero e va bene poi abbiamo il diodo lo misuriamo in modalità di misura tensioni giunzioni polarizzato direttamente va bene invertiamo i puntali ok infinito possiamo eventualmente misurare anche la capacità del connessatore testiamo innanzitutto che non sia carico non dovrebbe essere perché il circuito è disalimentato da tempo ok e adesso possiamo misurarne la sua capacità abbiamo 146 micro farad vediamo che è da 150 quindi è giusto anche questo lato piste vado a misurare il fusibile che è questo scatolino rosso ed è qui questo dovrebbe dare una misura 0 ok va bene abbiamo queste tre resistenze che servono a scaricare il condensatore una volta che è stata tolta l'alimentazione e per il momento non ci interessano quelle che invece ci interessano sono queste che inseriano la resistenza abbiamo visto dall'altro lato da 3,3 kilo ohm che questa qui va a fornire alimentazione al pvm anche queste sono da 3,3 kilo ohm una e anche quest'altra ingrandisco così vediamo un po meglio su questi componenti molto piccoli queste due resistenze insieme a questo condensatore e insieme al diodo resistenza che abbiamo visto sull'altro lato questi fanno parte del circuito di snubber le due resistenze hanno un valore relativamente alto 75 kilo ohm e vanno bene vedete che la sigla sulle resistenze smd i primi due numeri sono la resistenza e l'ultima cifra il 3 indica il numero di 0 ovvero il moltiplicatore quindi 75 mila qui abbiamo una resistenza di basso valore 2 r 0 che vuol dire 2,0 ohm la misuriamo e troviamo che è all'incirca 0 a meno della resistenza dei puntali però osserviamo che in parallelo alla resistenza r sense che abbiamo visto sempre dall'altro lato vedete che un capo fa capo qui e l'altro fa il giro e va qui qui abbiamo la resistenza r sense che è da 0,33 ohm l'abbiamo visto prima pertanto il parallelo delle due fa una resistenza inferiore a 0,33 poi sono importantissime in questi casi la misura delle resistenze 0 ohm perché spesso sono utilizzate come resistenze fusibile quindi queste ce le misuriamo sempre vediamo che sono buone qui ne abbiamo ancora una qui abbiamo una resistenza da 121 che vuol dire 120 ohm quindi sempre 12 con uno 0 perfetto questa resistenza non riesco a leggerne il valore la misuriamo e poi abbiamo quest'altra 2 r 2 che vuol dire 2,2 ancora qui anche in mezzo un'altra resistenza 220 che vorrebbe dire 22 ohm ok 22 va bene questa era 2,2 e misura 2,2 questa 120 abbiamo già misurata mi sembra e quest'altra non riesco a leggere nel valore 0,11 quindi forse un'altra resistenza 0 ohm qui abbiamo ancora una resistenza da un kilo ohm 102 quindi con due zeri più il 10 che precede quindi un kilo ohm giusto passiamo alla misura dei diodi abbiamo un diodo qui così è polarizzato inversamente vediamo direttamente quindi con il positivo da questo lato e il negativo sul catodo 0,55 va bene poi abbiamo un altro diodo qui 0,12 non va bene però questo è in parallelo a questa resistenza da 120 ohm infatti 0,12 equivale a 120 ohm quindi così non è misurabile dovrei toglierlo per misurarlo ma per il momento lo lasciamo vediamo poi se è necessario rimuoverlo per una misura più precisa abbiamo ancora un diodo qui così probabilmente inversamente 0,68 vediamo direttamente 0,56 ok questa è la polarizzazione diretta anche qui ci può essere un dubbio per questa misura poi abbiamo i due foto accoppiatori messi qui in mezzo questo è il lato transistor sono in modalità diodo abbiamo 2,3 volt inversamente 0,7 vediamo l'altro questo 0,33 inversamente sempre 0,33 qua ho un forte dubbio mettiamo in ohm vediamo cosa vuol dire dovrebbe essere 330 ohm infatti 334 ohm e se inverto i puntali del tester ottengo sempre 334 lato diodo metto il tester di nuovo in modalità misura giunzione dovrebbe avere circa un volt questo va bene e quest'altro invece no ancora due volt è troppo inverto i terminali del tester ok un volt va bene vediamo quest'altro un volt va bene dobbiamo controllare la bidinatura perché le misure non coincidono o perlomeno non sono quelle che mi aspettavo va bene abbiamo il dubbio soprattutto su questo foto accoppiatore perché questa resistenza da 330 ohm non va bene vediamo il tipico di questo circuito ripeto per maggiori informazioni date un'occhiata al precedente video abbiamo scoperto che il pvm è un ncp 12 36 b 65 vediamo che questo foto accoppiatore che dà un valore errato va a finire su quale piedino metto il tester in modalità di misura cicalino e vedo questo piedino a quale corrisponde questo è l'uno 2 ok sul 2 il piedino 2 e il piedino di feedback e quindi il foto accoppiatore che rileva la tensione quindi corregge la tensione di uscita ed è collegato soltanto a un condensatore piccolo ceramico e al pvm quindi abbiamo solo questi tre componenti in parallelo il foto accoppiatore il condensatore e il pvm stesso quindi questi 334 ohm possono derivare o dal foto accoppiatore o dal condensatore che dovrebbe essere questo c53 ovviamente perché in parallelo oppure tra il piedino 2 sempre e la massa 334 questi tre sono i componenti incriminati per questa misura errata ho dimenticato di misurare il mosfet e per il momento non faccio misure sul lato secondario adesso passiamo a qualche misura in tensione vado ad alimentare con le dovute protezioni e con la lampada in serie e vediamo vi faccio vedere alcuni punti test molto indicativi del funzionamento di un alimentatore switching in generale ho collegato l'alimentazione adesso vado ad alimentarlo ok verifichiamo che arrivi la tensione di alimentazione alternata 230 volt la prima misura che andiamo a fare è commutando il tester in misura di tensione continua sul condensatore di filtro principale e abbiamo 318 volt misuriamo la tensione di uscita il led verde è spento e non abbiamo nessuna tensione in uscita adesso la prima cosa da fare è capire se il problema riguarda il lato primario quella con il mosfet il pvm oppure il lato secondario per capire velocemente se il circuito primario sta oscillando ci basta misurare la tensione sui diodi e sulla resistenza dello snubber ovvero anche sul mosfet in questo caso mi è più comodo misurarlo sul diodo e sulla resistenza su questo diodo che fa parte del circuito di snubber dovete trovare qualche decina di volte anche 60 70 80 volte a secondo delle condizioni del carico e invece abbiamo 0 volt sulla resistenza dello snubber anche dovremmo trovare qualche decina di volte e abbiamo ancora 0 volt se vado a misurare adesso sull'altro lato drain source abbiamo che il pedino più a destra questo è il gate e gli altri due sono drain source quindi più comodamente io posso prendere un capo del mosfet qui e l'altro qui 317 che è guarda caso la stessa tensione che abbiamo letto sul condensatore invece nel caso stessa oscillando avremmo dovuto trovare una tensione più elevata di qualche decina di volte appurato che il circuito non sta oscillando quello che possiamo andare a vedere è se il pvm è alimentato qui abbiamo una differenza nel nostro circuito rispetto a questo schema elettrico che le resistenze sono 3 e la terza resistenza da 3,3 k ohm è collegata al positivo del ponte raddrizzatore in parallelo al condensatore invece qui tramite questo diodo viene prelevata a monte del ponte raddrizzatore direttamente sull'alternata quindi noi abbiamo questo terminale di hv che sarà una tensione leggermente inferiore ai 317 volte che abbiamo misurato perché qui scorre una piccola corrente che all'incirca di mezzo miliamper e in particolare dobbiamo avere una tensione di circa 15 volt sul piedino vcc del pvm con il puntale negativo del tester sul negativo del ponte raddrizzatore questa è la tensione alla fine della serie delle tre resistenze hv 310 vedete che abbiamo anzi 310 all'incirca abbiamo perso qualche volt rispetto a 317 perché sta circolando una corrente questo ci dice anche che effettivamente circola una corrente che sta andando a caricare un piccolo condensatore elettrolitico che vediamo qui e questo e andiamo a vedere ai suoi capi che tensione abbiamo utilizzo sempre il negativo del ponte raddrizzatore come negativo comune il positivo del condensatore e qui abbiamo 11 volt però non lo vedono molto stabile leggermente instabile vedete che balla da da 11,0 11,2 proviamo a misurare in alternata così eliminiamo la parte continua e abbiamo circa 04 volt c'è una piccola ondulazione ma può essere normale perché questo pvm lavora così quando è ancora spento abbiamo non dimentichiamo un problema quasi sicuramente però anche su questo foto accoppiatore facciamo una cosa è più facile è più comodo smontare e testare prima i foto accoppiatori quindi li vado a rimuovere entrambi li proviamo allora questo era quello che ci stava dando problemi questo più a destra ed è anche leggermente o abbastanza ossidato sui piedini vediamo così cosa misuriamo esteri modalità di misura resistenza e abbiamo 336 come prima quindi è lui il responsabile di quella resistenza bassa che abbiamo lato di odio invece in modalità di misura tensione aggiunzione vediamo cosa abbiamo uno ok può andare bene vediamo inversamente ok aperto l'altro non l'ho ancora staccato non so se rimuoverlo oppure lasciarlo perché comunque a livello di misure questo mi va bene vedo che di qua è aperto ricordiamoci una volta che rimuoviamo i componenti di cui abbiamo sospetto che sono in parallelo ad altri di effettuare la misura senza il componente montato quindi tra questi due piedini io non dovrei più trovare i 330 ohm che avevo prima infatti abbiamo resistenza molto elevata 054 mega ohm che più o meno dovrebbe coincidere anche con quella che leggo sull'altro infatti va bene va bene abbiamo sicuramente un problema su questo foto accoppiatore andiamo a guardare un attimo come è fatto il circuito si può darsi che il guasto del foto accoppiatore quindi tenendo a zero il piedino di feedback perché sostanzialmente questo è quello che succedeva con questa resistenza bassa probabilmente il pvm non si attivava perché abbiamo visto che più o meno avevamo una tensione tale da attivare le funzionalità del circuito integrato andiamolo a sostituire componente el 817 quindi un pc 817 ovviamente se non siete esperti prestate attenzione al verso di montaggio qui è indicato il pallino che è riferimento del piedino 1 e abbiamo il piedino numero 1 indicato anche sul foto accoppiatore in ogni caso sono posizionati allo stesso modo e abbiamo il diodo dal lato del secondario e il transistor dal lato del primario quando abbiamo più piedini da saldare saldiamoli alternativamente io salderò alternativamente quelli più lontani controlliamo sempre di non aver fatto ponti di stagno sulle saldature adesso ricontrollo la resistenza tra i due terminali ok ancora buona va bene direi che a questo punto possiamo ripetere lo stesso test quindi alimento o si è acceso già il led quindi abbiamo già tensione in uscita andiamo a misurare 25 volte all'incirca vediamo se riesco a bloccare i terminali del tester sull'uscita perché voglio provare se funziona la regolazione del trimmer ok bloccate i terminali sull'uscita vediamo se è regolabile all'incirca 28 volt ok abbiamo 27,3 e il minimo intorno ai 20 volt ok 20,8 lo riporto a 24 gli do un pelino più di tensione perché magari quando c'è il carico c'è un po' di caduta va bene così e adesso vi faccio vedere la tensione che avevamo misurato prima su diodo e resistenza che prima non avevamo quindi sul circuito di snubber e vedete che sul diodo abbiamo meno 8 volt siamo a vuoto se mettiamo un carico questa tensione dovrebbe salire facciamo questa prova ho collegato il mio carico resistivo da 8 ohm accendiamo e vediamo che tensione abbiamo beh va in protezione perché ho la lampadina in serie vi faccio vedere anche questo comportamento quindi se accendo così con la lampadina in serie vedete che il circuito va in protezione quindi riprovo senza la lampadina in serie però sempre con trasformatore di isolamento ok si è acceso vediamo la tensione in uscita 24 volt e vediamo sul diodo 120 volt vedete a seconda del carico ovviamente più elevato il carico e più aumenta la tensione sullo snubber e quindi scarica alleggerisce la sovrattensione sul mosfet e questa è la funzione del circuito di snubber bene amici spero che il video vi sia piaciuto grazie alla prossima